Pallone su cui si avventa Chiapperini in verticale da Censi che fa sportellata e poi lo stesso Chiapperini va a riprendersi la sfera ad esterno per Della Rovere di prima da Gabbiani che forse perde l'attimo ma lo ritrova alla grande Gabbiani al tredicesimo fa 2 a 1 Lascia scorrere Della Rovere fa bene entra in area di rigore Della Rovere palla in mezzo c'è Casali che deve solo appoggiare il pallone in rete per l'1 a 0 della Cremonese L'ortici su da tre quarti scarica a sinistra per Premoli che col destro mette in mezzo Della Rovere dopo l'assist anche il gol 2 a 0 Cremonese Rimessa battuta verso Della Rovere che riesce a saltare Ghidini, palla morbida per la corsa di Sardella, crossa rimorchio, Chiapperini d'esterno e salva sulla riga Savalli Pallone schizza verso Della Rovere che parte palla al piedi, inseguito proprio dal 16 viene sgambettato, calcio di rigore Pallone allontanato dall'Atalanta, viene intercettato e rispedito in avanti Stop e palleggio di Della Rovere che prova da lontanissimo e prende la base del palo sfiorando l'Euro goal Imposta dal basso la spalla, si alza, Maucci in pressione recupera il possesso Poi Iconcia di nuovo per Maucci, può anche calciare Lo fa e tira alto veramente di po' Savalli si gira molto bene, apre d'esterno per Maucci che si accentra, ci prova Galbiati tocca ma non basta, torna avanti il Brescia Offre a Maucci, alza la testa, va tra le linee da Congia che se la sposta e calcia Blocca Castelnuovo